Bene, di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti in questa mattina che continua e completa il workshop della Pontificia Accademia della Vita, proseguendo i temi e inquadrandoli all'interno di questa parola che vedete grande scolpita alle mie spalle, Renaissance. L'Italia è un paese che è caratterizzato e conosciuto in tutto il mondo, al di là degli episodi recenti che stanno sulla cronaca, per essere il luogo dove l'umano rimesso al centro ha saputo dare forma alle relazioni sociali, ha saputo creare quello che si chiama il bel paese. In un'epoca di così radicali trasformazioni, in un'epoca in cui la tecnologia è capace con la sua velocità e con la sua pervasività non di cambiare il modo con cui facciamo una cosa, ma di cambiare il modo con cui facciamo tutte le cose, la Pontificia Accademia per la Vita si è sentita interrogata insieme a parte della società civile nazionale, internazionale mondiale su come poter reagire, su come poter risuonare, su come poter rimettere l'umano al centro in questa stagione. E allora di nuovo benvenuti a questo evento organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita, lasciate che vi presenti e faccia accedere al palco coloro che oggi ci introdurranno alla giornata e al senso di quello che a metà mattinata vivremo come momento di incontro e di impegno comune per un'intelligenza artificiale che sappia mettere al centro l'umano. Iniziamo con l'accogliere qui sul palco il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia, la prima a sinistra. It's my honor and my pleasure to give the welcome on the stage to Mr. Brad Smith, President of Microsoft Corporation. Il prossimo ospite che con noi condividerà questa mattina è l'onorevole David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Buongiorno e benvenuto. Next one is Mr. John Kelly III, Vice President of IBM. I'm sorry for the long journey. Please. Then we have Mr. Chiu Dong Yu from FAO, Food and Agricultural Organization of the United Nations. Thank you very much. I'm sorry for the long journey. Please. Bene, di nuovo benvenuti a tutti. E' dunque arrivato il momento di cercare di far risuonare questo termine, cercare di dare profondità e ampiezza l'impegno che oggi qui ci vede allineati insieme e lo facciamo dando immediatamente la parola a sua eccellenza a Monsignor Paglia. Buongiorno a tutti, intanto come vedete il desiderio di un futuro migliore per tutti fa vincere ogni paura ed ecco perché nonostante i problemi noi siamo tutti qui riuniti, perché stiamo vivendo in questi giorni momenti straordinari di conoscenza e anche di decisioni per il futuro certamente dei nostri Paesi e anche del mondo. noi viviamo, come Papa Francesco ama dire, un cambiamento d'epoca e ne siamo più avvertiti che mai, proprio perché le nuove tecnologie emergenti e convergenti ne sono parte integrante. ne siamo avvertiti ed è la regione per cui noi oggi ci troviamo qui assieme. l'umanità ha già conosciuto momenti che hanno comportato profondi cambiamenti che hanno inciso in maniera profonda sul modo di vivere dell'umanità, la ruota, la macchina a vapore, l'energia elettrica, ma oggi ci troviamo di fronte ad una innovazione tecnologica che si presenta particolarmente dirompente sia per la velocità in continua crescita, sia per la pervasività, visto che entra in maniera profonda nella vita sia delle persone che della stessa società. Mi riferisco appunto alle tecnologie emergenti e convergenti che permettono di intervenire profondamente all'interno della materia vivente, agendo sulle basi molecolari del corpo umano, sino a mettere in questione la nozione stessa di vita umana, trasformando il nostro modo di interpretarla e anche di modificarla. Papa Francesco, nella sua lettera rivolta alla Pontificia Accademia per la vita, Umana Comunitas, e già il titolo definisce l'orizzonte, ci ha sollecitato ad allargare e a comprendere in più profondità il senso dei termini vita umana. È in questo contesto che si colloca la questione circa la cosiddetta intelligenza artificiale. Siamo consapevoli che i dispositivi che utilizzano l'intelligenza artificiale possano aiutarci a rendere più agevole lo svolgimento di un'ampia gamma di compiti che possono migliorare la nostra vita. Del resto è affidata all'uomo la responsabilità di rendere migliore la nostra vita. Ma sappiamo bene anche i rischi che corriamo. È senza dubbio riduttivo pensare che queste tecnologie sono solo strumenti per svolgere alcune funzioni in un modo più rapido ed efficiente. Esse, infatti, per un verso ci consentono di migliorare la vita, ma per altro verso cambiano il nostro modo di essere al mondo, il nostro modo di comprendere la realtà e noi stessi, sin a porre domande radicali sull'identità del soggetto umano. Spesso non ci rendiamo neanche conto che interagiamo con sistemi automatici o che disseminiamo nella rete informazioni che riguardano la nostra identità personale. Produciamo così una grave asimmetria tra chi estrae i dati, i possessori dei data, e chi li fornisce, senza saperlo, ossia noi. E' ormai nota a tutti che la strumentazione dell'intelligenza artificiale è capace di determinare vere e proprie forme di controllo e orientamento delle abitudini mentali e relazionali. È sempre più evidente che l'umano è condizionato in modo tale da assecondare il dispositivo di intelligenza artificiale molto più del contrario. È una minaccia seria e non possiamo solo stare a guardare magari rassegnati. potremmo dire che per la prima volta nella storia umana l'uomo può autodistruggersi. È accaduto con la fissione dell'atomo e l'esplosione nucleare negli anni 40. I governi hanno sentito l'obbligo di sottoscrivere patti di non proliferazione di armi nucleari. Vi è stato poi un secondo versante, quello relativo all'ecologia. Lo sfruttamento smodato del pianeta a scopo del solo profitto ci ha condotto sull'orlo di una esplosione ecologica. I governi, nonostante qualche successivo ripensamento, si sono ritrovati a Parigi per un accordo globale sul clima. Cari amici, dopo l'atomica, dopo la crisi ambientale, siamo ora su un terzo fronte che mette in questione direttamente l'umano. È cresciuta la consapevolezza che possiamo distruggere la nostra casa comune, ma non è ancora emerso con chiarezza che rischiamo di distruggere chi la abita, ossia le qualità specifiche degli esseri umani e della stessa famiglia umana. Per riprendere l'inizio della lettera del Papa, della humana comunitas. Siamo sulla terra una sola grande famiglia, per fortuna plurale, che però richiede oggi una consapevolezza molto più chiara di quella che normalmente abbiamo. Ecco, all'interno di questo scenario noi dobbiamo interrogarci sulle nostre responsabilità. Come evitare che l'uomo venga tecnologizzato invece che la tecnica umanizzata? Come non diventare succubi della algocrazia, del potere degli algoritmi? Non è necessario elaborare una visione della società e del futuro del pianeta che veda l'uomo protagonista, non succube. Credo sia necessario, anzitutto, evitare che venga assegnato un ruolo dogmatico e dirigistico sia alla gestione politica sia al liberismo tecnocratico. Ma questo è possibile se si riconosce un ruolo all'etica non solo quando il prodotto è fatto e finito, quando ormai non resta altro da fare che tentare di regolarne l'uso, ma in tutto l'itinerario della ricerca, in altri termini, non è sufficiente circoscrivere l'attenzione al controllo dei singoli dispositivi lasciando all'utilizzatore finale il compito di collegarli alla pratica sulla base di riflessioni astratte e giuridiche sul rispetto dei diritti oggettivi della dignità. L'esperienza ci dice infatti che questo intervento dell'etica a giochi fatti, per così dire, risulta quasi inutile. Certamente i principi elaborati ad esempio dalla dottrina sociale della Chiesa, dignità, giustizia, sussediarietà, solidarietà, sono irrinunciabili. Io direi irrinunciabili anche quelli della rivoluzione francese, libertà, ugualianza, fraternità. Ma la complessità del mondo tecnologico contemporaneo chiede che entrino in dialogo con questi ambiti perché siano effettivamente incisivi. Occorre un'etica che rifletta sui criteri che sottendono la progettazione stessa degli algoritmi e sulle responsabilità di chi opera nei singoli stadi della loro produzione. A mio parere l'etica è chiamata ad accompagnare tutto il ciclo dell'elaborazione dei dispositivi tecnologici, fin dalla scelta dei progetti su cui investire le risorse. E questo è possibile se si individua un modello interdisciplinare per un'etica in cui le diverse competenze intervengono in tutte le fasi del processo di elaborazione degli apparati tecnologici. Ricerca, progettazione, produzione, distribuzione, utilizzo individuale e collettivo. L'obiettivo è assicurare una verifica competente e condivisa dei processi secondo cui si integrano i rapporti tra gli esseri umani e le macchine della nuova era aperta dall'intelligenza artificiale. Ma stiamo attenti. Questo compito non può svolgerlo nessuna componente della società da sola. È indispensabile il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti perché l'interesse convergente sia la salvaguardia della casa comune e la convivenza pacifica di questa unica plurale famiglia umana. Oggi in nessun campo è più possibile prescindere da una visione globale, ancor più in quello tecnologico. Ecco il senso dell'incontro di oggi e mi avvio alla conclusione. Di fronte alle enormi sfide che abbiamo, che ci sono innanzi, ci viene chiesto un sussulto morale per poter disegnare un futuro di pace per l'intero pianeta. Possiamo imparare dalla storia e cogliere un'analogia con quanto avvenuto nel secondo dopoguerra. Gli uomini, dopo la drammatica esperienza dei totalitarismi che avevano calpestato la dignità delle persone e le sue espressioni, con un sussulto morale elaborarono la dichiarazione universale dei diritti umani. cari amici, non dobbiamo aspettare che analoghi esiti devastanti si realizzino. Possiamo e dobbiamo anticiparli e correre ai ripari prima che accadano. Come famiglia umana dobbiamo attivarci prima per riaffermare e promuovere il diritto di tutti i popoli ad abitare la terra con le loro diversità e nella pace. Alla luce di queste riflessioni, la Pontificia Accadema per la Vita ha iniziato un cammino di collaborazione con numerosi interlocutori accademici, membri della società civile e aziende produttrici di queste tecnologie. La call, che oggi verrà firmata, è un primo passo. Di fronte ai cambiamenti introdotti ci sentiamo chiamati a rispondere secondo lo specifico della Pontificia Accademia. Intendiamo promuovere riflessioni e iniziative che contribuiscano a sostenere un'innovazione tecnologica che sia fattore di autentico sviluppo umano per la promozione del bene comune del pianeta. Intendiamo perciò dare corso alla prospettiva di un umanesimo per l'era digitale. Oltre a quella parte di mondo accademico internazionale che si è unita alla PAV, in questo processo abbiamo trovato anche due grandi aziende, Microsoft e IBM, che hanno condiviso con l'Accademia alcune prospettive di fondo. Anche il coinvolgimento di istituzioni pubbliche di grande rilievo, come il Parlamento europeo nella persona del suo Presidente, di un organismo internazionale come la FAO nella persona del suo Segretario Generale, ci rendono fiduciosi per gli sviluppi futuri. Lo spirito della call, infatti, non è quello di limitarsi ai partner che oggi sono qui, escludendone altri. Al contrario, l'intento è di dar vita ad un movimento che si allarghi e coinvolga altri soggetti, istituzioni pubbliche, ONG, industrie e gruppi per produrre un indirizzo nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie derivanti dall'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista possiamo dire che la prima firma di questa call non è un punto di arrivo, ma un inizio per un impegno che appare ancor più urgente e importante di quanto fatto fin qui, sino ad ora, e in cui ciascuno di noi qui presente è chiamato a sentirsi coinvolto e ad offrire il proprio contributo. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie, grazie tantissima eccellenza, grazie per queste parole. It amazes me the deeply awareness that I find in one of the president of the Tech giant, Mr. Brad Smith, when he pointed out that every technological artefact could be a tool or could be a weapon. Please welcome Mr. Smith. Thank you. You're welcome. Well, good morning. It's my pleasure to be here. It's my honor to represent Microsoft and to be here with these other such distinguished speakers. I want to talk a little bit this morning about the Rome call for AI ethics, and I wanted to say a little bit about why it matters, about why it matters in fact so much. I think it matters in part because almost to state the obvious, artificial intelligence is going to change the world. And before we go too far forward with it, we need to think hard about the kind of impact we want to have. I think there's few places that are better to have this conversation than here in Rome. And I think it's especially fitting that this has been framed the way it is, to talk about it in terms of the Renaissance. Because after all, the Renaissance changed the world. Indeed, for many of us around the world, we might think of the Renaissance first in terms of art, but as you can see, the Renaissance in so many ways changed almost everything. It led over the course of two centuries to inventions that we still take for granted today. It changed the way we work with each other. It changed the economy and the way the world works. It did more than that. It changed the way we were given the opportunity to think about the world. When we think about Gutenberg and his printing press, and we think about the fact that, of course, the first thing it was used to do was to print a Bible. A Bible that gave new power to humanity to read about religion. And of course, it wasn't just Gutenberg. It was a series of inventors, including Minutius, who took Gutenberg's invention. And like so many aspects of technology, he made it better. With new typefaces, he started to make things like a very heavy Gutenberg Bible smaller and more portable. In many ways, they invented the world that we live in today. And we continue to change that world as we democratize information and we put it in the hands of more people around the world. Of course, that was the Renaissance. And the Renaissance was followed starting in the middle of the 1700s with, in many ways, the era in which we still live today. Waves of industrial revolution. When you look back at the history of technology, what you fundamentally find is that every era has many inventions, but so many of them are grounded in one invention that enables so much else. First, it was the steam engine. And then it was electricity. And then it was the combustion engine and then the microprocessor. I think in many ways, we should think about artificial intelligence as not just the newest step, but another one of these defining, fundamental, enabling technologies. In many ways, I think it's right to think about the artificial intelligence as the combustion engine as the combustion engine of the 21st century. The combustion engine, more than any single invention, remade the world a century ago. Between 1910 and 1940, it, of course, made possible for people to drive and to have a car. But on farms, it led to the invention of the tractor. For the movement of goods, it made it possible to have a truck. It brought people literally closer together around the world because it made it possible to invent an airplane. It changed the face of war because it made it possible to invent a tank. It touched every aspect of humanity. And I think in a similar way, the era we are now entering, an era that you can think of in the year 2020, we can recognize that over the next three decades, between now and the middle of this century, artificial intelligence is likely to have a similarly and sweeping impact. In so many ways, it not only will change the world, it will impact the world, and not just in ways that are good. Although the good will be powerful, in so many respects, artificial intelligence will enable a new generation of opportunity. It probably will become the most powerful tool in the world. It will become a tool that will enable us to do things that we only dream of doing today. It should enable us, over the course of the next three decades, to find the cure for cancer. We desperately need artificial intelligence to do what we believe it can do. And that is, help us ensure the sustainability of the planet. In every field of human knowledge, much like we learned from the Renaissance itself, artificial intelligence will fuel the quest for knowledge. But what we also know from the history of technology, as Monsignor Paglia mentioned, is that every tool poses new challenges as well. Artificial intelligence will generate a new generation of challenges. It probably will become the planet's most formidable weapon. We're already seeing this around the world. We're seeing AI used to fuel more powerful cyberattacks, whether it is by criminals or by certain nation states. We're seeing artificial intelligence put to work in various parts of the world to fuel mass surveillance. Mass surveillance that poses new questions and challenges for the rights of people. We're seeing artificial intelligence unleash a new generation in terms of the automation of more jobs. We will see new jobs created, but we will see many existing jobs changed or even displaced. So like every tool, it is and will be a weapon. And because artificial intelligence will be the world's most powerful tool, almost by definition, it will also become the planet's most formidable weapon. That's why I believe it's so important that we also think about this as a clarion call about the need for a new generation for ethics. As Monsignor Paglia mentioned, as Pope Francis has stated, this is an important moment for the history and the future of humanity. That's why today is so important. That's why I believe the Rome call for AI ethics is so important. Why does this matter? It matters for many reasons. But I think the first thing to reflect upon is that the Rome call is about creating a broad community. I come from a company that invents technology, a company that works with a company like IBM, that represents a broad community and industry that is creating technology. And yet I would be the first to say that this technology is too important to be left solely to the people who will create it. Because it will affect all of us, we need to work together in a community that represents all of us. I think it's of fundamental importance that the Catholic Church is a voice for humanity in thinking about the future of technology. The world needs the Catholic Church to be a voice for humanity. The world needs the Catholic Church to be a voice that will welcome, as it is, everyone else to this broad table and this big conversation. This is a conversation that will need to bring together the world's great religions. Organizations like the United Nations. Organizations like the European Parliament. The great NGOs and representatives of civil society, as well as those of us across the business community and the technology sector. That is the first reason that I believe the Rome call for AI ethics matters so much. But it also matters because of what it says. I think that the Rome call starts with something of fundamental importance. It starts with people. And as it says, what really defines us as people is that we are endowed with reason and conscience. The future of humanity requires that both of these come together. And as the Rome call recognizes, what we need to do is exercise our reason and conscience to safeguard the rights and the freedoms of individuals. The future of humanity needs to be protected one person at a time. With the recognition that each of us is an individual and has something unique and special. I think the Rome call is also important because it connects two fundamentally important concepts of our time. We need both to serve and protect human beings and the environment in which they live. The planet on which we live. This is not a phrase that we would have seen put together in this way if we were meeting a decade ago. But as we think about the decade ahead, it has become fundamentally clear that the protection of humanity requires not only the protection of human beings, but the planet as well. Ultimately, as the Rome call makes clear, we need to think about digital rights in an AI era. The rights of people in an era of artificial intelligence. And as the Rome call states, there are six fundamental rights that are important to the future of humanity and this planet. We need to ensure that artificial intelligence is designed and deployed in ways that are inclusive of all people. That are impartial and fair. That are reliable and safe. That are guided by the need for people to be secure and to have their privacy protected. And perhaps most broadly, to be transparent so that we as people can understand how machines are making decisions and to ensure that machines remain responsible. Accountable, if you will, to humanity. These are the new rights of our time. And the Rome call underscores the importance of our working together to advance them. Another aspect of the Rome call that I think is of great importance is that it recognizes that the protection of people and the advancement of these rights needs to start with education. It will require a new approach to education to reach a new generation of people. In some ways, it's most obvious to think about this as reaching the next generation, the youngest generation of people. But the truth is, we are entering a new era in which we will all need to learn new skills. And as the Rome call makes clear, this isn't just about skills relating to new technology. It isn't just about data science. It isn't just about computer science. It is fundamentally about the liberal arts. It is about ethics. It is about humanity as well. Ultimately, it calls for a new generation of learning. And that too requires a broad conversation. When I step back and I think about all of this, I'm constantly reminded of an important speech that was given almost six decades ago. It was a speech given in the midst of a new focus on a new generation of technology and what it would mean for people. It was a speech given in 1962 at a university, at Rice University in Houston, Texas. It was a speech given by the President of the United States, John F. Kennedy. The speech is remembered to this day because it was a speech in which he called on the people of the United States to reach the moon before the end of the decade. That is what people remember the speech for. But there is another line in the speech that I think speaks even more powerfully to us today. Because during this speech, President Kennedy uttered the words, Technology has no conscience. When you think about it, technology never has had a conscience. Think about all of those inventions from the Renaissance. Think about the Gutenberg Bible. Think about the combustion engine. Think about what it did both to bring people together and to build a tank. Technology has no conscience. Its use will never be defined by the products themselves. Technology has no conscience, but people do. And we do. That is what matters. That is what the Rome call for AI ethics requires that we keep in mind. In the history of humanity, I might argue that in some ways we are unique. Why? We are the first generation of people in the history of people to create machines that can make decisions that previously could only be made by people. The future of humanity rests on our ability to get this right. If we come together and we make decisions wisely and effectively, then future generations will benefit. And if we fall short or fail, every generation that follows will pay the price. That is why this moment is so important. That is why the Rome call for AI ethics is vital. That is why the voice of the Catholic Church and all of the voices of humanity need to be heard. Technology has no conscience, but people do and we must. We must call not just on our ability to reason, but on our conscience. That is what will help shape the future. Thank you very much. 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 Really inspiring. Thank you very much. Una delle citazioni che porto nel mio cuore è tratta da un testo di Alessandro Baricco, si chiama City. All'interno di questo racconto lo scrittore a un certo punto dice tutti cercano la loro via, chiedono qual è la loro via, ma forse il mondo ha bisogno che noi siamo una piazza, non che portiamo da qualche parte, ma che siamo un luogo dove altri si possano incontrare. Ecco perché se c'è qualcosa di profondo che muove il nostro cuore abbiamo bisogno anche di queste piazze istituzionali, abbiamo bisogno di questi luoghi che consentono alla nostra diversità di integrarsi e di interagire spingendo l'innovazione verso quello che è uno sviluppo comune. Ecco perché do il benvenuto all'onorevole Sassoli. Prego, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Un ringraziamento a Monsignor Paglia e a tutta l'Accademia Pontificia per la vita. Abbiamo capito una cosa, forse l'abbiamo capita tutti in ritardo, che nell'epoca della globalizzazione non regolare i processi può prevedere che molti effetti producano delle marginalizzazioni. l'abbiamo capito in ritardo e naturalmente credo che rispetto ai grandi cambiamenti, le grandi sfide che l'intelligenza artificiale propone non possiamo restare in ritardo. l'avvento dei mezzi di comunicazione, della rivoluzione digitale, in generale di quella che viene definita, intelligenza artificiale, ci sta offrendo delle straordinarie opportunità, ma al tempo stesso sta modificando radicalmente anche il nostro modo di agire e di essere. Fino ad oggi la ricerca e l'innovazione sono stati strumenti che hanno consentito alle nostre società di progredire, di raggiungere grandi traguardi, hanno accresciuto il benessere dei nostri cittadini, delle nostre società. Negli ultimi anni si è verificata un'accelerazione rivoluzione, dello sviluppo tecnologico e quindi l'inizio di una vera e propria rivoluzione che ha avuto e sta avendo tutt'oggi un fortissimo impatto dal punto di vista economico, sociale e politico. La robotica, l'intelligenza artificiale sono una possibilità per affrontare le sfide della nostra società. Reti energetiche ottimizzate, produzione sostenibile, agricoltura di precisione, capacità di governo dell'economia e della finanza, un misurato uso delle risorse. Benefici e manipolazioni possono interagire, sovrapporsi. Utilizziamo l'intelligenza artificiale nei trasporti, dove attraverso una semplice applicazione sui nostri smartphone si possono prevedere le condizioni del traffico, guidare veicoli autonomi. Utilizziamo per tracciare il nostro consumo di acqua, di energia, oppure in ambito sanitario per elaborare, come è stato detto molto bene, enormi quantità di dati che ci aiutano a curare anche patologie e individuare le migliori prassi per prevenirle. Come tutti capiscono, l'intelligenza artificiale può consentire anche una concentrazione enorme, come forse non abbiamo mai conosciuto, di potere. E questo ha scapito certamente dei più vulnerabili. E gli algoritmi considerare considerare gli esseri umani semplici strumenti di processi di razionalizzazione, efficientamento, redditività. Lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale insieme ad una comunicazione digitale globalizzata e alle potenzialità delle reti ci pongono interrogativi di straordinaria ampiezza, che richiedono una riflessione approfondita e soprattutto una capacità di leggere i cambiamenti con lungimiranza e con grande senso di responsabilità. Perché, signore e signori, quella che può essere definita come quarta rivoluzione industriale, dopo quella del vapore, dell'elettricità, dell'automazione, implica che sulla base di dati e degli algoritmi che ne derivano sia una tecnologia stessa ad avere capacità predittive sulle attività umane. È una rivoluzione che ha stravolto i nostri modelli di sviluppo e che deve essere accompagnata orientata ad accrescere e non a diminuire i nostri diritti, diritti di cittadinanza, diritti sociali, diritti politici, economici. Un nuovo mondo impone nuovi ritmi e la nuova epoca nasce da progressi tecnici, realmente unificanti da rendere la scienza capace di toccare nel profondo valori che pensavamo consolidati e diffusi. La digitalizzazione e l'automazione stanno cambiando modi di vivere, il modo in cui ci rapportiamo con le nostre società. Ma come evitare che la rivoluzione digitale sia foriera di maggiori disuguaglianze in termini di diritti? Questa è una grande questione. Come possiamo, ad esempio, fare in modo che il mondo dell'istruzione sia all'altezza di queste sfide? Come possiamo garantire ai giovani un equo accesso ai processi produttivi? Come riusciremo a bilanciare la perdita di posti di lavoro, determinata dall'avvento delle nuove tecnologie con le nuove opportunità lavorative? Alcuni anni fa lo scrittore Asimov affermò che un robot non può recare danno all'umanità, né permettere che a causa del suo mancato intervento l'umanità subisca danni. Oggi più che mai abbiamo bisogno di elaborare politiche che consentano di cogliere i frutti del progresso tecnologico, garantire al tempo stesso il rispetto di quegli standard sociali che rappresentano per tutti noi conquiste irrinunciabili. Nella nostra società contemporanea l'intelligenza artificiale che nasce dalla composizione e scomposizione di un insieme di algoritmi è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Ma è bene ricordare che l'intelligenza non può essere disgiunta dall'uomo, dalla sua coscienza, nonostante il concetto di relatività che è insito nell'esperienza scientifica. Cercare di capire gli effetti delle grandi trasformazioni può consentire di non venire travolti, come dicevamo all'inizio, e travolti anche da un individualismo sfrenato che incline a provocare grandi solitudini e nuove emarginazioni. Di fronte alle incognite che ci pone questa stagione occorre grande trasparenza. È importante coinvolgere attivamente le opinioni pubbliche, promuovere un'attenta riflessione sul piano etico e valoriale. Ecco perché è importante che i nuovi confini tecnologici vengano regolati non solo dagli Stati, ma anche a livello europeo, qui da noi, attraverso l'elaborazione di precise regole di utilizzo e con l'adozione dei requisiti comuni in materia per misurare l'impatto sul rispetto dei diritti fondamentali. L'opera di regolamentazione europea, dai dati alla privacy, come sapete, produce soprattutto in questo momento storico un impatto positivo nei processi di globalizzazione. E questo è bene che venga sostenuto. Quello che accade da noi ha un'immediata reazione fuori dallo spazio europeo. Se l'Unione europea sostiene da sempre politiche a favore della ricerca, dell'innovazione, il Parlamento europeo ha il dovere di proteggere ancora di più i cittadini per l'impatto che possono determinare le nuove tecnologie. Durante la scorsa legislatura il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di aggiornare e integrare il quadro giuridico dell'Unione, con chiari principi anche etici, che tengano in considerazione e non sottovalutino il fattore umano, poiché i nostri cittadini devono avere la possibilità di controllare i propri dati, di proteggersi, di proteggere la propria privacy, di saper discernere le informazioni che ricevono. La Commissione europea ha raccolto questa richiesta, ha presentato di recente un libro bianco sull'intelligenza artificiale, incluse le implicazioni sociali molto rilevanti, che darà via ad un dibattito su scala europea. Insieme al libro bianco la Commissione ha presentato una strategia per promuovere l'accesso ai dati non personalizzati per le grandi piccole e medie imprese nella garanzia del rispetto della sfera privata. Il Parlamento europeo esaminerà questi testi, tutto questo ci impegnerà molto nei prossimi mesi, daremo il nostro contributo alla riflessione aperta su come l'Europa possa diventare allo stesso tempo leader mondiale di questa trasformazione ma rimanere un modello globale nella tutela dei diritti e della dignità delle persone. La rivoluzione digitale, così come l'intelligenza artificiale, stanno cambiando i nostri stili di vita, il nostro modo di produrre, di consumare. Abbiamo bisogno di regole che sappiano coniugare progresso tecnologico, sviluppo delle imprese e tutela dei lavoratori e delle persone che sappiano garantire, che sappia garantire, in poche parole, democrazia. In uno scenario nel quale l'incertezza sembra ancora prevalere è necessario sostenere politiche di riorientamento, riorientamento al lavoro, investendo molto di più nella formazione permanente. In questo senso l'Europa può essere utile ad un mondo che non ha regole ma che deve trovarle. La nostra sfida è questa, ovvero in che misura consentiamo a queste tecnologie di svilupparsi e di essere utili alla nostra vita, non solo capaci di condizionarla. L'intelligenza artificiale può essere anche un rischio, però, che può compromettere non solo la protezione dei dati personali ma può anche accrescere il divario digitale in termini di accesso e conoscenza. È nostro dovere garantire che la tecnologia sviluppata sia sicura, che le responsabilità siano chiare, che l'uomo possa comunque controllare le decisioni. Come ha detto il professor Benanti, se vogliamo che la macchina sia di supporto all'uomo e al bene comune senza mai sostituirsi all'essere umano, allora gli algoritmi devono includere valori etici e non solo numerici. Per queste ragioni abbiamo bisogno naturalmente di fare sistema, di creare alleanze, di sviluppare nuove metodologie. Dobbiamo lavorare per sfruttare al meglio le opportunità che offre la Quarta Rivoluzione Industriale, sapendo che se non la governeremo saranno gli algoritmi a governare noi. Per fare questo occorre lavorare perché tutto questo si sviluppi in un quadro giuridico, adeguato, che sia in grado, come ha ricordato anche Monsignor Paglia, di accompagnare tutto il ciclo dell'elaborazione delle tecnologie, dalla scelta delle linee di ricerca fino alla progettazione, la produzione, la distribuzione e l'utente finale. Le opportunità della scienza possono condurre a un processo di unificazione della vita, cui fa riscontro l'unificazione del sapere. Sui dati scientifici gli uomini tendono a incontrarsi, lo diceva anche il vecchio Leonardo da Vinci quando sosteneva che l'esperienza scientifica ha la capacità di far cessare il letigio, il letigio degli uomini. Credo che abbiamo bisogno che il letigio in qualche modo possa cessare, soprattutto facendo in modo che ci sia una difesa dei valori fondamentali dell'uomo e della sua libertà. Per questo abbiamo bisogno del contributo di tutti e credo che il personalismo cristiano abbia ancora molto da dire. Grazie. Grazie onorevole, grazie infinite. Grazie tantissime onorevole per queste profonde e ispiranti parole che tracciano un futuro da scrivere prima ancora che un presente di cui aver paura. Purtroppo di mestiere faccio un altro lavoro, quindi ho scordato qualcosa. Ecco, ho scordato di dirvi che c'è un hashtag per la giornata, che è lo stesso della parola che vedete qui alle mie spalle, Renaissance, e potete utilizzarlo tranquillamente o seguire e riproporre parte delle cose che sono successe qui oggi. One of the other things that touched me when I was going deeply inside the AI and how the AI will change the world where we live was something that I found in a book. The book was titled The Era of Cognitive Computing. It was so clear. All the world knows machines because they defeat the human being. But we never projected that machine to defeat the human being but to cooperate with them. That was by John Kelly and it's my pleasure to welcome you in the middle of the stage. Thank you. Thank you Father. Well good morning. It's a pleasure to be here this morning to represent both the IBM Corporation, which is a corporation and technology company that has survived and prospered for over 100 years and has produced much of the technology that we know as computing and introduced it in a responsible way. I'd also like to congratulate the Academy and Monsignor for a wonderful piece of work and I'm privileged to join all my colleagues from industry and government as well in this important effort. I'll also say on a personal note, having spent nearly half a century of my life and career in technology and also spent my entire life as a Catholic, these two worlds for me have grown in parallel. And at this moment, this historic moment, for me personally, it's bringing these two worlds together at a very, very critical point in time. And once again, I thank the Academy for this opportunity. Now, I believe to understand where we are at this point in time and where we're going and the responsibility, we need to understand a little bit about how we got here. So let me just quickly, quickly review 100 years of technology. Let's start 75 years ago. This is a machine that IBM built with Harvard University called the Mark 1. The Mark 1 was the first computer at scale. And when I say at scale, it was 80 feet long and weighed five tons. It was used for the most advanced science and research of the at scale. It had amazing performance. It could add two numbers in less than one second. It could multiply two numbers in about six seconds, and it could divide two numbers in about 12 seconds. At the time, it was an astonishing tool. 75 years ago, 50 years ago, as Brad mentioned, we put a human being safely on the moon and returned that human to Earth. I had the privilege not only of growing up and seeing this live in 1969, but last year, I had the privilege of meeting the man in the upper right-hand corner, Gene Krantz. Gene Krantz was the mission control director. He was the man in Houston that determined the flight pattern, determined when the astronauts would land, and how to get them safely back. And when I talked to him about his interaction with the IBM computers that put the man on the moon and got him back, he said to me, he said, John, neither humans nor the machines could have put a man on the moon and got them back safely. It took humans, astronauts, my control center people, and your computers to make that happen. Man and machine did something astonishing. And we changed our view of humanity when we looked back from the moon at the Earth and saw our place in space. Fast forward 25 years ago, we worked with the Vatican Library to digitize and make available all of the knowledge in the extensive Vatican Library. Once again, democratizing the information and causing us as humans to think about our place from a religious standpoint and our place in society. Again, technology and human history coming together and democratizing knowledge in a very unique way. Fast forward to just nine years ago. Ten years ago, we would not be talking about artificial intelligence. It was the last thing on people's minds. But on that day in February, the Watson artificial intelligence machine, as the father mentioned, beat two human beings in natural language and open domain questioning at rapid speed. And the world was stunned. And from that moment on, artificial intelligence exploded around the world. Every company pursued it. Every human had it top of mind. It was a very special moment in time, and I'll have more words to say about that in a moment. Fast forward to just two years ago. We built the two largest supercomputers on the planet, and they remain the largest today. These computers, now remember that Mark I system, could do one calculation per second. These machines can do 200 billion calculations a million times a second. And they're built to be the largest, most intelligent systems in the world. So we have come in just a few years to a point where the capability of these systems is simply unprecedented. Now, let's take a different look at it. And let me carve it into three time frames, because I think we've seen three fundamental errors of computing, and something has changed fundamentally. The first error, the tabulating error, we use simple things like punch cards. And every punch in a card that we as humans put in was fed in the computer, and it represented a piece of data or an instruction. And the machine had no knowledge, nothing. It did exactly what we punched in that card, and it basically did arithmetic. We think we're sophisticated today, but really we've been in this generation of programmable computers. And instead of punching cards, we write software, and every instruction that that computer executes is defined in that software. In the tabulating error, in a programmable error, a computer could do nothing that we did not explicitly tell it to do. And it had no awareness of what it was doing. We now have entered an entirely new era of computing, and that's why we're here today. We've entered the era of artificial intelligence, where machines no longer require explicit instructions to perform every procedure. They learn, they think, and they execute largely based on what they have learned. This, ladies and gentlemen, is a fundamentally different era of computing, and as was discussed, has fundamentally different implications on the world. Now let me say a little more then about this era of artificial intelligence. And I could go back into the 50s when scientists were experimenting with artificial intelligence, but I would argue that this was truly the advent of artificial intelligence. In 1997, in our labs in IBM, we built a computer called Deep Blue. You'll notice everything in IBM is called Blue. And while we had a human being moving the chess pieces, every move came from this computer, Deep Blue. The computer went on to beat Garry Kasparov, the grandmaster of chess. Garry Kasparov had never lost a computer game to a human or a machine, ever in his lifetime. When we won that match, I remember speaking to Garry right after. And needless to say, he was a little bit upset. But he said to me, he said, John, I've played many games in parallel, but that game was strange. He said it was like I was playing multiple people in the same game. And I said to him, Gary, that's because I trained the machine with multiple grandmasters. So he was not able to psychologically figure out who he was playing in that game. I'll also tell you that I met Garry last summer. And Garry said to me, he says, John, we did it wrong. It shouldn't have been me versus the machine. It should have been me and the machine playing either a human or a machine. He said, you give me that machine today and I can beat any machine or any human. I thought that was really insightful. Fast forward to this famous Jeopardy match. Once again, the computer system dominated a man versus machine in an open domain question and answering. And as I said before, it woke the world. And if you read the fine print from Ken Jennings, he says, I welcome my computer overlords. Sort of a joke, not too funny. That, ladies and gentlemen, was the last time IBM and I did a man versus machine. We realized that that was not the right paradigm. It's not man versus machine. It's man and machine doing things that neither one can do on their own. And so we thought deeply about this. And I would maintain that these machines are not simply something that we build and it learns and it acts on its own. It's not something that really has a consciousness. But these machines, these artificial intelligence machines, are simply a reflection of us as humans. When I build an artificial intelligence machine, it's as dumb as that podium. It only learns based on the data and the training we give it. So what would we expect of a machine that takes the digital exhaust from society, is taught by humans. Wouldn't we expect it to develop the biases and thinking of us as humans? It has no ability to generate its own hypotheses. So when I think of artificial intelligence machines, to me, it's like looking in the mirror and seeing ourselves through the eyes of this machine. I would also argue, state, that this is all about choices. And choices are based on our ethics. And a great example of this was immediately following that demonstration of the Watson AI machine. We had a choice to make in IBM. We could either put this machine strictly to work in financial services sectors and other places to make money with this machine. I mean, think about it. This machine was faster and had abilities far beyond what most humans could do in narrow areas. But we said, no, we're not going to go that way. We determined the first use of this artificial intelligence machine was in the area of healthcare. And so we immediately went to work training the machine at places like Memorial Sloan Kettering in the area of cancer. And as of today, over 150,000 cancer patients have benefited from the training and exposure to the Watson AI machine. And by the way, 80% of them are not in the United States or Europe. They're in places like China and India and South America, where the need is the highest. And we didn't stop there. Yesterday, I was at Bambino Gesu Hospital, Pediatric Hospital, here in Rome. And for those of you not familiar with Bambino Gesu, it is one of the largest children's hospitals in the world, owned by the Vatican. And it treats children from all over the world with severe cancer, rare diseases. We formed a partnership yesterday with Bambino Gesu to take Watson, our AI machine, and apply it to two use cases. One is childhood brain cancer, which is one of the most horrific, horrific diseases facing mankind. And the second is rare diseases. So think about rare diseases. There's about 8,000 known rare genetic diseases. They affect about 8% of the human population globally. But any given physician or doctor any place in the world will rarely see any of those 8,000, or they'll occasionally see one, and frankly, not know what to do. So IBM in partnership with Bambino Gesu is going to collect the data from the hospital and others, and produce one of the largest data sets, and apply artificial intelligence, and then democratize the knowledge of rare diseases in children. And we look forward to a tremendous partnership with Bambino Gesu. So back on this theory that it's man and machine, as I said, we're not going to play games anymore. This is no longer man versus machine. And around the world, ourselves and our colleagues in the tech industry are hard at work, whether it's in agriculture, healthcare, energy exploration, bringing the best that humans bring with the best of these machines to do things and reach decisions in timeframes that matter, and always, always make better decisions for outcomes for humanity. And frankly, I haven't seen a single industry or a single institution that can't benefit from this technology. I also agree that one of the secrets here is education. Artificial intelligence is a very advanced technology, but we cannot allow it to only go to the haves and create another set of have-nots. We have to bring artificial intelligence globally, and we have to bring it to those most in need. We have been very privileged to bring on board students to learn artificial intelligence globally, with a particular focus on Africa, where the opportunities are immense. And so we have brought our artificial intelligence education systems, software systems to Africa to teach the students on the ground so that we can be inclusive in advances in artificial intelligence. Now, I'd like to conclude by, again, thanking the academy. These highlights of the call for ethics, I think, are spot on. And the IBM company is committed not only for ourselves to follow these great guidelines, but to also be a spokesperson and spokes company around the world and globally and advocate for these among our tech partners and among the governments of the world. If we can be transparent, inclusive, secure systems, et cetera, we can do quite well. So, I'd like to end with this quote from Pope Paul VI. The human heart absolutely must become freer, better, and more religious as machines, weapons, and the instruments people have at their disposition become more powerful. I think that says it all. In a sense, it's another way of saying that this isn't about what the machines will do and not do. This is about what we, as humans, choose to do with the things that we create. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, thank you very much, thank you very much. Big challenges, big responsibilities, big awareness, but sometimes the personal effort or a company effort could be not enough to face the situation, to face the challenges that the history will present to us. This is the reason why we need international effort. Let's Derby Bread, it's the motto of Food and Agriculture Organization, and so it's my pleasure to leave the stage to choose on you as a president of FAU. Please, Mr. President. Thank you. Excellencies, ladies, gentlemen, I would like to thank the Potiphar Academy for Life for conveying to this meeting on a highly relevant topic of artificial intelligence. I'm very pleased to contribute to the interesting exchange by editing perspective food production, food security, and the food system as whole into this discussion on AI. Since I was also a scientist for more than 30 years, but it's not IT, it's BT. So that's also cross-cutting area between IT and AT. Because when you talk about the AI ethnic, it's just the new hybrids between IT and BT. My speech will touch upon four points. How should AI be? In which area of agricultural food can be applied? What is required for the digital transformation of food and agricultural? How can we implement this? How can we implement this? promising to help us attack humanity and greatest challenges. The significant impact upon the functioning of our society and economics is evident. Artificial intelligence needs to be transparent, inclusive, social beneficial and accountable. Let's say two speakers, Mr. Smith and John Kelly, already mentioned the sixth line of principles we should focus on and follow. And we needed to ensure the human-centric approach in design and implementing artificial intelligence today and in the future. From food system transformation perspective, we look at the digitalization, big data, AI as a source of hope, as a package of a solution. AI is a practical tool for advancing scientific and professional solutions to help farmers, foresters, fish forks across the globe. Because artificial intelligence is about to recognize the patterns to make sense of a message and present a powerful analyzing. AI always is a complicated system. So we need a big data. We need the cloud computing to modeling, to analyzing and to have a package of solution, which is a comprehensive solution. Analyzing big data and using new technology in our work is a real breakthrough. Satellite imaging, remote sensing, mobile and blockchain application, you name it. We've already used many of these tools in projects to optimize food chains, manage water resources, fight against pests and disease, monitor forestry, identify species, increase preparedness, increase preparedness of farmers while the disaster struck and in many other activities. A digital agriculture means a more efficient, sustainable agriculture, one that is the most better to be able to improve rural livelihoods. Turning agricultural and rural areas digital means revolutionary change in biological and environmental factors in agricultural processes such as production, operation, processing, management and marketing and rural governance. This ambitious vision requires adequate big data centers and the cloud platforms. Databases concerning information on arable land, on important agricultural gem plasm, on shared rural assets and on the farmers and agricultural business needed to be set up. The digital transformation of production operation will also need to be accelerated. This includes a remote census of all aspects of planting, building digital livestock facilities, establishes smarter aquaculture systems and digitalizes the seed industry. The digital transformation of related management services is also needed to build a digital service program for rural agriculture, include a smarter environment of monetary and the digital governance. The necessary infrastructure that all about is based on that we need to be established, broadband connection, roads, bridges and with all this big data service. All about also need human capacity, talent support, rural vocational training and enhanced digital skills, appropriate performance reviews, incentive systems will open new possibility for youth and the rural population. But how do we coordinate all this at the global level as a Director General of Food and Cultural Organization of the UN? We will look at this point from a multilateral perspective. UN system has an important global role to play in balancing technological progress with social progress. In that respect, we need a responsible innovation and a better understanding of the implications and the potential benefits to AI on the world. Let's include a look at the gaps between the development and developing countries and the digital gap is already a reality that needed to be addressed. 6 billion people are without broadband today, 4 billion without the internet, 2 billion without the mobile phone, and even 400 million people without any digital signal. So that means they are already completely ignored by the digital world. Additionally, there is a significant gap between men and women, young and old, and clearly rich and poor. But there is also gap in promoting dialogue, creating the synergy and enhance the awareness for issues specific to digital and culture. So how can we close this international gap between the key actors and how can we bring about a fundamental shift in air culture towards the digitalization? At the Global Forum for Air Culture last year, International Community Asker FAO was designed and presented a digital platform to address the issues of digital and culture. Early this year in Berlin, 76 ministers endorsed FAO's proposed international platform for digital food and culture. And today I come here really thinking the support from private sector like Microsoft and IBM and others. not only focus on the medical issues and also please focus on food and culture issues and the environment of course. The digital platform will strive to engage all actors, players and stakeholders with the agro food system. And they will activate across sectors and across competence experts to consolidate, enhance and diffuse the state of digitalization in the sector with the strategy approach. The platform will help government to identify the potential of digitalization to enable stakeholders to access and benefit from digital technologies. And it will facilitate dialogue, raise awareness and build trust in digital technology. The task ahead of us is big. We are convinced that transforming our food system to feed the world will be achieved with digital agriculture. And the SDG Sustainable Development Goals of 2030 Agenda is our common consensus endorsed by General Assembly of the UN. As President John Kennedy said, also I heard from Mr. Smith, technology has no consensus. But the people who master technology have a consensus, have a passion. Like the Holy Father here, they always have a big passion and love and heart to the people. And the food is basic human rights, not you are poor or rich and there is a fundamental demand to survive. So, if you are willing to play the part of a role as a facilitator, as a knowledge organization, to help you to remind your consensus, to use the technology right away to help people in a valuable region and for their livelihood improvement. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Siamo così giunti al termine di questo primo momento di questa nostra giornata. Arriva ora il momento in cui queste diverse perspettive, questa diversità, questa pluralità, questa località e questa globalità si trovano assieme e si troveranno attorno a un tavolo per firmare appunto questa call di Roma. Un testo che vi presento brevemente non solo per motivi di regia ma anche perché il testo verrà reso disponibile pubblico subito dopo la firma e è una breve dichiarazione, un breve testo di due pagine che si compone di un preambolo che mette al centro quello che abbiamo detto essere la chiave del nostro essere qui oggi. L'uomo, la persona nel suo essere tanto un singolo di un valore e di una dignità profonda quanto anche un insieme di relazioni e a questo preambolo seguono tre sezioni. Una prima sezione si occupa dell'etica, cioè si occupa di come poter comprendere, impostare e vivere queste scelte che oggi sempre più possiamo pensare di far surrogare a una macchina o possiamo aumentare nel processo macchinico che si affianca all'uomo. Ma non solo, anche all'insieme di relazioni che l'uomo vive, tutte le sue relazioni, quindi una tecnologia, una dimensione etica che si fa anche una parte sociale e infine una dimensione e responsabilità dell'uomo che ha a che fare con quella che capiamo essere la casa comune, con quella che è quel dono che ci è dato e di cui siamo custodi e responsabili che è la creazione. Questa call, questo testo è qualcosa che tocca diverse forme di istituzioni, diverse partecipazioni, ma che vuole mettere in moto un processo che è un processo culturale, anche un processo che si allarga e vuole diventare uno standard che tocca tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, dal suo momento di progettazione alla sua implementazione fino al suo deploying, fino alla sua messa in opera all'interno di varie strutture. Come abbiamo sentito più volte abbiamo bisogno quindi di alcuni guardrail etici che sappiano guidare questo processo ed ecco perché la parte finale della call si chiude con questa nuova stagione, questo nuovo capitolo di questo libro che è l'etica che potremmo definire, che viene definita in maniera anche abbastanza provocatoria come algoretica, cioè un'istanza umana profonda e radicale che abita dentro di noi che vuole in qualche misura forzare gli strumenti di intelligenza artificiale a rispettare quei valori che sono valori umani. Ed ecco che allora alla fine della call vengono delineati i sei principi che possono trasformare l'innovazione tecnologica in un qualcosa che abbia il bene dei singoli e dei gruppi al proprio centro, qualcosa che possiamo chiamare sviluppo. E allora sarà un tema di inclusione, di responsabilità, di imparzialità, di affidabilità dei sistemi di sicurezza e della privacy. Ecco questo è il testo e ora procediamo per il momento della firma. Ecco vorrei all'inizio di questa firma anzitutto ringraziare i nostri ospiti che firmano. Il presidente Sassoli scende perché ha chiesto che questa call venga poi presentata al Parlamento europeo perché sia condivisa ovviamente dai membri del Parlamento. e inviterei il primo governo, la ministro dello sviluppo tecnologico del governo italiano a salire perché anche lei firmerà. In questo modo c'è un ideale tavolo delle grandi organizzazioni, della politica, degli organismi internazionali che simbolicamente rappresentano un primo step, un primo gradino di questa firma che io mi auguro, come ho già detto, venga diffusa in tante altre parti del mondo. e permettetemi anche di comunicarvi che questa mattina, anzi mi è arrivata la conferma, che il Papa ha cancellato tutte le udienze, però mi ha pregato di leggere il suo discorso che avrebbe dovuto pronunciare, salutandovi tutti, a partire dai firmatari, augurando buona salute, naturalmente, a tutti noi e soprattutto lo sentiremo nel discorso, nel suo discorso che leggerò poi al termine di questo nostro incontro, con il quale sottolinea la sua vicinanza e anche il suo supporto in questo cammino delle firme ulteriore. Io volevo soltanto dire che la firma di questa colla è davvero un atto molto importante, naturalmente come Parlamento europeo saremo molto attenti alle indicazioni, ma abbiamo anche la necessità di sviluppare un dibattito libero all'interno della nostra istituzione, che come sapete è cercando di coinvolgere tutte le sensibilità, per cui io inviterei Monsignor Paglia a Bruxelles, magari in un evento in cui possa esserci una presentazione di questa colla e anche un modo per sviluppare il dibattito in sede istituzionale. L'etica, il diritto, naturalmente per noi sono i capisaldo di questa avventura. Grazie. Alla fine. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Thank you very much. Thank you. Very good. So you should, I'll give a talk. Right. Okay. Okay. io vado a rego naturalmente facciamo i nostri auguri a Papa Francesco perché ovviamente si rimetta presto e noi ascolteremo ora il suo discorso che sottolinea l'importanza anche di questo momento e di questa call distinte autorità illustri signori e signore cari fratelli e sorelle vi saluto cordialmente in occasione dell'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita e ringrazio Monsignor Paglia per le sue cortesi parole sono grato per la loro presenza al Presidente del Parlamento Europeo al Direttore Generale della FAO alle altre autorità e personalità nel campo della tecnologia informatica saluto inoltre quanti partecipano all'auditorium conciliazione mi rallegro per la presenza numerosa anche di giovani è un segno di speranza le tematiche che avete affrontato in questi giorni riguardano uno dei cambiamenti più importanti che caratterizzano il mondo di oggi anzi potremmo dire che la galassia digitale e in particolare la cosiddetta intelligenza artificiale si trova proprio al cuore del cambiamento d'epoca che stiamo attraversando l'innovazione digitale infatti tocca tutti gli aspetti della vita sia personali sia sociali essa incide sul nostro modo di comprendere il mondo e anche noi stessi è sempre più presente nell'attività e perfino nelle decisioni umane e così sta cambiando il modo in cui pensiamo e agiamo le decisioni anche le più importanti come quelle in ambito medico economico o sociale sono oggi frutto di volere umano e di una serie di contributi algoritmici l'atto personale viene così a trovarsi al punto di convergenza tra l'apporto propriamente umano e il calcolo automatico cosicché risulta sempre più complesso comprenderne l'oggetto prevederne gli effetti definirne le responsabilità certo l'umanità ha già vissuto nella sua storia sconvolgimenti profondi come ad esempio quando è stata introdotta la macchina a vapore o l'elettricità o l'invenzione della stampa che ha rivoluzionato il modo di conservare e trasmettere informazioni oggi la convergenza tra diversi saperi scientifici e tecnologici ha un effetto di amplificazione e consente di intervenire su fenomeni di grandezza infinitesimale e di portata planetaria fino al punto di rendere labili confini finora considerati ben distinguibili tra materia inorganica e organica tra reale e virtuale tra identità stabili ed eventi in continua relazione tra loro sul piano personale l'epoca digitale cambia la percezione dello spazio del tempo e del corpo infonde un senso di espansione di sé che sembra non incontrare più limiti e l'omologazione si afferma come criterio prevalente di aggregazione riconoscere e apprezzare la differenza diventa sempre più difficile sul piano socio-economico gli utenti sono spesso ridotti a consumatori asserviti a interessi privati concentrati nelle mani di pochi dalle tracce digitali disseminate in internet gli algoritmi estraggono dati che consentono di controllare abitudini mentali e relazionali per fini commerciali o politici spesso a nostra insaputa questa asimmetria per cui alcuni pochi sanno tutto di noi mentre noi non sappiamo nulla di loro intorpidisce il pensiero critico e l'esercizio consapevole della libertà le disuguaglianze si amplificano a dismisura la conoscenza e la ricchezza si accumulano in poche mani con gravi rischi per le società democratiche questi pericoli non devono però nasconderci le grandi potenzialità che le nuove tecnologie si offrono sono davanti siamo davanti a un dono di Dio cioè a una risorsa che può portare frutti di bene anche i temi di cui la vostra accademia si è occupata fin dalla sua nascita si presentano oggi in modo nuovo le scienze biologiche si avvalgono sempre più largamente dei dispositivi resi disponibili dalla intelligenza artificiale questo sviluppo induce mutazioni profonde nel modo di interpretare e gestire gli esseri viventi e le caratteristiche proprie della vita umana che è il nostro impegno tutelare e promuovere non solo nella sua costitutiva dimensione biologica ma anche nella sua irriducibile qualità biografica la correlazione e l'integrazione fra la vita vivente e la vita vissuta non possono essere rimosse a vantaggio di un semplice calcolo ideologico delle prestazioni funzionali e dei costi sostenibili gli interrogativi etici che emergono dal modo in cui i nuovi dispositivi possono appunto disporre della nascita e del destino delle persone richiedono un rinnovato impegno per la qualità umana dell'intera storia comunitaria della vita sono quindi grato alla Pontificia Accadema per la vita per il cammino che ha intrapreso sviluppando una seria riflessione che ha favorito il dialogo tra discipline scientifiche diversi e indispensabili per affrontare fenomeni così complesse noto con soddisfazione che l'incontro di quest'anno vede la presenza di persone che hanno importanti e differenti ruoli di responsabilità internazionali sul piano scientifico industriale e politico ne sono lieto e ve ne ringrazio come credenti infatti non abbiamo nozioni già prestabilite con cui rispondere alle domande inedite che la storia oggi ci pone il nostro compito è piuttosto di camminare insieme agli altri ascoltando con attenzione e mettendo in collegamento esperienza e riflessione dobbiamo lasciarci interpellare come credenti perché la parola e la tradizione della fede ci aiutino a interpretare i fenomeni del nostro mondo individuando cammini di umanizzazione e pertanto di amorevole evangelizzazione da percorrere insieme così potremo dialogare in maniera proficua con tutti coloro che sono alla ricerca dello sviluppo umano mantenendo al centro della conoscenza e delle pratiche sociali la persona in tutte le sue dimensioni incluse quelle spirituali siamo di fronte a un compito che coinvolge la famiglia umana nel suo complesso alla luce di quanto detto non basta la semplice educazione all'uso corretto delle nuove tecnologie non sono infatti strumenti neutrali perché come abbiamo visto plasmano il mondo e impegnano le coscienze sul piano dei valori c'è bisogno di un'azione educativa più ampia occorre maturare motivazioni forti per preservare nella ricerca del perseverare nella ricerca del bene comune anche quando non ne deriva un immediato tornaconto esiste esiste una dimensione politica nella produzione e nell'uso della cosiddetta intelligenza artificiale che non riguarda solo la distribuzione dei suoi vantaggi individuali e astrattamente funzionali in altri termini non basta semplicemente affidarci alla sensibilità morale di chi fa ricerca e progetta dispositivi e algoritmi occorre invece creare corpi sociali intermedi che assicurino rappresentanza alla sensibilità etica degli utilizzatori e degli educatori sono molte le competenze che intervengono nel processo di elaborazione degli apparati tecnologici ricerca progettazione produzione distribuzione edilizia individuale e collettivo e ognuna comporta una specifica responsabilità si intravede una nuova frontiera che potremmo chiamare algoretica essa intende assicurare una verifica competente e condivisa dei processi secondo cui si integrano i rapporti tra gli esseri umani e le macchine nella nostra era nella comune ricerca di questi obiettivi i principi della dottrina sociale della Chiesa offrono un contributo decisivo dignità della persona giustizia sussidiarietà e solidarietà esse esprimono l'impegno di mettersi al servizio di ogni persona nella sua integralità e di tutte le persone senza discriminazioni né esclusioni ma la complessità del mondo tecnologico ci chiede un'elaborazione etica più articolata per rendere questo impegno realmente incisivo l'algoretica potrà essere un ponte per far sì che i principi si iscrivano concretamente nelle tecnologie digitali attraverso un effettivo dialogo transdisciplinare inoltre nell'incontro tra diverse visioni del mondo i diritti umani costituiscono un importante punto di convergenza per la ricerca di un terreno comune nel momento presente peraltro sembra necessaria una riflessione aggiornata sui diritti e i doveri in questo ambito infatti la profondità e l'accelerazione delle trasformazioni dell'era digitale sollevano inattese problematiche che impongono nuove condizioni all'ethos individuale e collettivo certamente la col che oggi avete firmato è un passo importante in questa direzione e con le tre fondamentali coordinate su cui camminare l'edica l'educazione e il diritto cari amici vi esprimo il mio sostegno per la generosità e il dinamismo con cui vi siete impegnati ad avviare un processo di ripensamento così impegnativo e coraggioso vi invito a proseguirlo con audace discernimento alla ricerca delle vie di un coinvolgimento sempre più ampio di tutti coloro che hanno a cuore il bene della famiglia umana invoco su di voi la benedizione di Dio perché il vostro cammino possa svolgersi con serenità e pace in spirito di collaborazione e vi assista la Vergine Madre e vi accompagni la mia benedizione e per favore non dimenticatevi di pregare per me grazie 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 eccellenza la invito di nuovo qui al centro del palco molto forti queste parole di benedizione e di incoraggiamento per quanto abbiamo fatto qui oggi si apre ora un altro momento let me invite again Mr. Bradsmith to be back on the stage vogliamo ora consegnare due premi che la Pontificia Accademia per la Vita insieme a Microsoft hanno istituito per le due migliori dissertazioni dottorali sull'etica delle AI e queste nuove modalità di ricerca che vogliono iniziare a investigare fino ai più alti livelli accademici queste nuove dimensioni arriva ora la parte più difficile pronunciare i nomi dei vincitori e consegniamo il primo premio il primo dei due premi a Dominic Monlezun dagli Stati Uniti che prego di venire sul palco grazie 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 Grazie.